Ci raccontano le loro storie, la loro vita, il loro dolore. Sono Svitlana, Natalia, Caterina, Leonida e molte altre. Sono donne ucraine che da anni vivono in Italia e che hanno trovato lavoro nel baresotto grazie alla cooperativa ABC Assistenza di Busto Arsizio. Fanno le badanti, assistendo anziani e persone non autosufficienti. Ognuna di loro, tra le lacrime e la commozione, ci parla della sua famiglia e dei suoi amici, di quelli che sono riusciti a scappare dalla guerra e di quelli che invece sono rimasti in Ucraina a combattere e a difendere la loro libertà. C'è Brandusha, da 15 anni in Italia, che ha aperto le porte del suo appartamento per ospitare un'amica con i suoi figli minorenni fuggiti dal loro paese. I genitori di Brandusha, invece, hanno deciso di restare in Ucraina, nella loro casa. Io abito a Busto da tanti anni, ho conosciuto questa famiglia di Ucraina, di rifugiate, una mamma molto in difficoltà, con due figli in viaggio che scappavano dalla guerra, che è un quale il figlio più grande è rimasto lì, con il papà sul campo. Io lo aspetto volentieri a casa mia. C'ho gli amici, c'ho i genitori, c'ho la nipote, sono riuscita a portarlo qua, invece i genitori sono là, che non vogliono abbandonare le loro case, che non vogliono lasciare la nostra patria, quindi abbiamo metà cuore qua e metà cuore là. A trovare rifugio nella casa di Brandusha è stata Svitlana, insieme ai suoi due figli, entrambi minorenni, Anastasia e Costantino. Svitlana, venuta in Italia anni fa per cercare lavoro, è tornata in Ucraina per salvare i suoi due bambini. Il figlio più grande e il padre, invece, sono rimasti là per combattere la guerra. A noi, a me e i miei figli, ci ho aspettato la mia amica, che ci siamo conosciuti in Italia, ormai da tre anni. È stata la persona che mi ha dato un appoggio, che non me l'avevo aspettato, che una persona estranea, direi così, perché ci siamo conosciuti così. All'improvvista, lei aveva preso la casa, io lavoravo vicino, ci siamo conosciuti da un momento all'altro, invece è stata una persona che è stata vicina in un momento così difficile. Io in Ucraina, ho un figlio, che ha 20 anni, marito, che sono su linea di fronte, i miei genitori, i miei parenti sono rimasti in Ucraina, quindi mi divido tra Ucraina e Italia. C'è poi la storia di Natalia, la cui città è stata bombardata ieri. Ha paura Natalia, paura che la sua gente, i suoi parenti, i suoi amici, possano perdere la vita. La mia città è Venezia, vicino città Getomer, 100 chilometri di distanza tra di noi. Ieri hanno bombardato città Getomer, mi pare che tra poco arrivano da noi. E poi c'è Leonida, che con le lacrime agli occhi ci racconta di sua figlia, che seppur già in Italia, ha deciso di partire per tornare nella sua terra e per difenderla. Mio figlio mi ha telefonato un paio di giorni, che mamma io parto in Ucraina, io pensavo per prendere la sua figlia, ha detto che parto e non torno qui più. Io ho detto ma perché dici così? Lei mi dice che io voglio andare a soldate. E io ho un po' dentro dispiaciuta, però poi sono orgogliosa molto. Dolore, lacrime, disperazione, ma anche tanta dignità, desiderio di riscatto, orgoglio. Le donne ucraine hanno unito tutte le loro forze e oltre ad ospitare chi fugge dalla guerra, organizzano continuamente dei viaggi per portare alimenti e beni di prima necessità ai loro parenti e ai loro amici. Noi cerchiamo, come noi siamo qui, non possiamo andare in Ucraina e aiutare perché siamo donne, siamo mamme, siamo moglie e noi cerchiamo di aiutare di qui. Chi desideri partecipare alla raccolta di alimenti, medicinali e beni di prima necessità può rivolgersi direttamente alla cooperativa ABC Assistenza in corso 20 settembre a Busto Arsizio.